Jenny Guardiano e Tony Renda, un mese dopo, Temptation Island, stanno ancora insieme Davanti alle telecamere di Witty TV, la coppia ha raccontato come procede la loro relazione dopo il turbolento percorso all'interno del villaggio dei sentimenti e il falò di confronto finale. Tony si è detto cambiato, mentre la fidanzata si sente finalmente libera di riuscire a vivere la propria vita senza avere l'ansia addosso. Temptation Island, Jenny rimuove il filler alle labbra, la reazione. Sono felice, mi sento cambiata, rinata. Qualche settimana fa sono andata a trovare Martina, mi ha presentato la sua famiglia, io le ho fatto conoscere mio padre. Siamo andare a ballare, c'erano i suoi fratelli e gli amici, ha rivelato Jenny un mese dopo essere uscita da, Temptation Island. Si sente cambiata e rinata, ma non solo nel rapporto con il fidanzato Tony. Jenny, infatti, dopo essere uscita dal reality show dei sentimenti condotto da Filippo Visciglia, ha deciso di cambiare anche esteticamente. E ovviamente non sono mancate le reazioni dei fan, Temptation Island, Jenny mostra le, nuove labbra. Forse spinta dalle numerose critiche e commenti negativi letti sui social, Jenny Guardiano ha deciso di sottoporsi a un piccolo intervento di rimozione del filler alle labbra. Bellissima e con delle labbra carnose e naturali, oggi la protagonista di, Temptation Island, si è mostrata sui social dopo la rimozione del filler. Jenny ha spiegato ai suoi follower di Instagram, dove è arrivata a 300.000 follower, che serviranno ancora un po' di tempo e pazienza e che le sue labbra sono in fase di guarigione, aggiungendo di vedersi molto bene. Ma quali sono state le reazioni dei suoi fan? Scopriamole insieme. La reazione dei fan sui social, Jenny ha deciso di sottoporsi a un piccolo intervento di rimozione del filler alle labbra. Forse spinta dai numerosi commenti negativi letti sui social, ha deciso di dare un taglio con il passato. Dopo aver pubblicato sul suo profilo personale Instagram alcune storie per mostrare il cambiamento ai suoi follower, la reazione dei suoi fan non è tardata ad arrivare. Era molto bella prima a mio parere si è rovinata avrebbe potuto fare di meglio considerando che la partenza era già buona, si legge tra i commenti. Molto più bella di prima? Jenny senza filler è stupenda, ha scritto qualcun altro. Oggi due canotti, che orrore, si leggeva tra i commenti del video che mostrava com'era Jenny prima del filler alle labbra. Un cambiamento netto che è stato apprezzato da molti, soprattutto da Jenny stessa che dice di vedersi molto bene con le sue, nuove labbra.